La capolista aspetta un derby, aspetta un derby bello, tutto da vivere, vivendo esperienze nella passata stagione sicuramente non positive, una vittoria sbalorditiva di quell'Olympic che rievoca fantasmi nel passato, è chiaro che la capolista viste non può permetterci il lusso di compiere passi falsi, vero Gigi? Ricordo la partita dell'anno scorso, è stata una partita giocata molto bene da parte dell'Olympic, male comunque da parte nostra a fine partita, infatti anche sul nostro sito, sono stati evidenziati alcune prestazioni dei giocatori dell'Olympic comunque quest'anno speriamo che la partita sia diversa, anche perché noi siamo primi in classifica dobbiamo cercare di tenere questo primo posto, quindi le partite saranno da qui alla fine del campionato saranno tutte importanti, cerchiamo di vincere tutte, di un punto, di 5 punti o di uno scarto maggiore non ci interessa, l'importante è riuscire a difendere questa prima posizione, arrivare al meglio ai playoff perché sappiamo che comunque il fattore campo sarà importante Situazione squalifica, c'è stata un po' di confusione, a questo punto chi c'è, chi non c'è e chi ci sarà insomma? Allora il nostro ricorso è stato parzialmente accolto, è stata confermata la squalifica del campo commutata in 250 euro di multa, la squalifica di soldatesca è stata ridotta da 4 a 1 giornata anche perché la commissione ha valutato una protesta quasi normale, quella di vittoria e non come era stato scritto e interpretato dal primo giudice come quasi un'aggressione Speriamo che, sappiamo ora che ci sarà sabato contro l'Olympic, arbitrerà di nuovo Cagliostro insieme a Biglianisi Io penso, anzi noi siamo sicuri che gli arbitri, noi rispettiamo il lavoro degli arbitri Siamo convinti che gli arbitri oprino sempre comunque in buona fede e la cosa comunque importante è appunto quella che bisogna sottolineare è che come i giocatori possono incappare appunto in una giornata storta anche un arbitro può incappare in una giornata storta sono innanzitutto tutti quanti esseri umani e comunque persone che nessuno diciamo sono professori in specie in questa categoria quindi ci aspettiamo comunque, tornando al discorso di prima una partita corretta da parte di entrambe le squadre e anche diciamo arbitrata nel modo più giusto e in massima serenità Permettimi di aggiungere che probabilmente con un rappresentante vero e parlante degli arbitri tutte queste situazioni controverse tra mille e cavilli diventerebbero più chiare che ne pensi? Sì, diciamo che sarebbe bello comunque secondo me a inizio anno anche se la federazione comunque lo fa questo discorso qua un incontro fra arbitri e società è previsto probabilmente sbagliamo anche noi a non partecipare a queste iniziative della federazione io sinceramente lo dico, quando ci sono state quelle squalifiche io ho sentito, ho parlato diciamo con diverse persone fra quali anche degli arbitri i quali hanno ammesso che forse in effetti diciamo erano abbastanza pesanti quelle squalifiche io mi aspettavo, non so se il regolamento lo prevede comunque un arbitro io penso che comunque possa parlare col giudice perché l'arbitro ha vissuto la partita quindi sa com'è andata perfettamente le varie situazioni magari un arbitro può anche parlare col giudice e dire guarda, penso che forse le squalifiche sono un po' esagerate non c'è stata questa animosità quando c'è stata un punto di esposizione di Soldadesca comunque l'importante per noi è che Vittorio possa giocare è che comunque il peccato per il campo però purtroppo il parere di Cristian è entrato non voleva neanche farla apposta comunque pazienza, è andata così Il campionato entra nel vivo ci saranno partitissime ce la curiamo da qua fino alla fine playoff inclusi un nuovo arrivo Antonio Cioffi prima mini presenza soltanto in panchina contro Crotone come sta il ragazzo innanzitutto? Antonio sta bene l'unica cosa appunto è che deve riprendere un attimino il ritmo partita perché era rimasto fuori per un infortunio o una distorsione alla caviglia quindi un paio di settimane quindi ora sta lavorando già con la squadra col gruppo mi dispiace e penso anche a Cristian dispiacerà che Cristian sabato contro l'Olympic non ci potrà essere perché è impegnato fuori reggio per lavoro io stesso purtroppo non ci potrò essere spero di arrivare alla fine perché sarò con la Diamond a Roccella mi dispiace perché probabilmente Cioffi potrà finalmente esordire nel nostro campionato all'interno del nostro gruppo e quindi ci perderemo purtroppo l'esordo di Antonio però sicuramente ce lo potremo da qua a fine campionato perché oltre ad essere un ottimo atleta è veramente un ragazzo eccezionale che fa gruppo e senza dito alla grande con tutto il resto dei ragazzi spendiamo due parole l'avete visto e scelto insieme tu e Cristian un po' come la storia della Viss sto parlando di Matteo Grande è una soddisfazione vederlo così bene incrociamo le dita chiaramente sì sì io credo molto comunque nelle sensazioni io quando l'ho visto nella prima settimana di giugno al centro della Stella Azzurra c'era una quindicina di atleti e io ho visto questo ragazzo qui comunque era una specie di cavallo pazzo in campo correva, tirava molto diciamo un giocatore come piace a me è un giocatore molto istintivo infatti lui continua a essere un giocatore istintivo che però per fortuna grazie al lavoro che quotidianamente i coach fanno in palestra sta cominciando un attimino anche a capire quali tipi di tiri deve prendere quando deve passare la palla però ha delle doti atletiche eccezionali e poi comunque un ragazzo d'oro che sono veramente contento che si sta integrando alla grande qui nella nostra città di Reggio Calabria e si sta a molti amici sono davvero contento anche perché sicuramente un altro anno sarà con noi quindi è importante anche per lui che si possa integrare il più velocemente possibile appunto nella nostra città a proposito di un altro anno si parla tantissimo della serie C1 della serie C direttanti dell'anno prossimo perché in un modo in un altro speriamo per te in un modo e non nell'altro arriverà questa promozione non ti spaventano tutti questi svincoli? no non mi spaventano perché ormai tornando al discorso di prima l'acquisto di Matteo Grande è stato fatto anche in ottica svincoli e parametri l'anno scorso noi abbiamo sostenuto cioè quest'anno non abbiamo sostenuto una spesa extra budget per acquistare il cartellino di Matteo però sempre appunto in quest'ottica non mi spaventano perché anche con Paolo Surace abbiamo iniziato questo percorso di attività giovanile con la Mediterranea e con altre società come la Pantera Rosa e Space Jam che proprio per comunque cercare di pian piano di inserire all'interno delle prime squadre degli atleti degli atleti giovani un altro anno sicuramente la squadra non sarà composta da sette da sette over ma cercheremo come primo anno di fare sempre se arriveremo nel campionato di cittadini di tanti in un modo o nell'altro come ho detto tu comunque cercheremo di allestire un roster giovane che possa crescere comunque nei vari anni già per noi il traguardo C1 è un traguardo che cinque anni fa sinceramente partendo dalla promozione nessuno poteva neanche immaginarlo però se dovessimo arrivarci comunque l'idea è questa di creare comunque una squadra giovane che si possa salvare e darci delle soddisfazioni siamo a marzo dimmi se sbaglio gli assist di Fabrizio Scaffidi benissimo rivelazione Matteo Grande l'abbiamo già detto le schiacciate di Billy le giocate di Jamal Matteo Straguzzi eccetera ma la cosa più bella probabilmente è il seguito su tutti questi ragazzi che si stanno aggregando i tamburi i rumorissi stanno tutto bene sì sì per fortuna abbiamo iniziato con l'anno scorso che c'era che c'era appunto un paio di un paio di tifosi tifose più che altro Marvi vabbè non la conoscete però abbiamo fatto le interviste sul nostro sito e Rita che praticamente piano piano hanno cominciato a portare altre persone al campo queste persone si sono comunque appassionate si sono entusiasmate si sono moltiplicate infatti e sono diventate e piano piano si stanno anche organizzando hanno creato un gruppo anche su Facebook il gruppo Bam Bam Re dell'Energia che si sta organizzando già in previsione playoff con diciamo degli strumenti abbastanza particolari e anche per esempio l'Angela Fulco che è la madre di Simone un ragazzo che gioca con la serie D anche lei ha portato altre persone e devo dire che partecipano alla grande l'ultima partita contro Crotone e addirittura hanno cominciato a lanciare degli slogan insomma a intonare dei cori e io stesso pensavo ma non ci posso credere cinque anni fa siamo partiti già avere comunque un gruppo di tifosi appassionati come loro noi chiaramente ci fa un piacere un piacere enorme lo abbiamo caldo